L'accaduto raccontato nel Vangelo di oggi rispecchia quanto accade spesso a noi. Sappiamo valutare qualcosa secondo la verità se quella vicenda tocca qualcun altro e non noi personalmente. È molto facile condannare gli altri e sentirsi giustificati nel proprio cuore, ma dobbiamo ricordarci che molto spesso ciò che condanniamo negli altri si trova per primo dentro di noi. Condannando l'altro pensiamo di allontanare da noi il male, ma il male è dentro di noi. Ciò che non ci piace negli altri deve essere per noi un segnale di ciò che dobbiamo cambiare dentro la nostra vita. Osservi e giudichi l'errore dell'altro? Come reagisci quando viene evidenziato il tuo errore?